L'ingegner Giuseppe Lomoro è dal mese di settembre a capo del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Questa mattina vi è stato il primo incontro ufficiale con la stampa per presentarsi alla città. Nell'arco di poche settimane a Ravenna il neocomandante, con alle spalle già sette comandi, tra Padova, Piacenza, Parma e Belluno, si è fatto le idee chiare sulle criticità che dovrà affrontare, legate in particolare al distaccamento portuale e alle sedi di Lugo e Faenza. Assolutamente da rivedere o da ristrutturare. Ma ha anche commentato con entusiasmo la preparazione dei suoi pompieri ravennati, capaci di fare interventi della precisione di corpi speciali, come i Marines. Le priorità, prima di tutto, è cercare di capire bene la realtà territoriale, che meno male da già dei primi confronti ho già avuto, prendere contatti con le autorità, diciamo, dello Stato e alle autorità locali, e cercare di lavorare in sinergia per raggiungere obiettivi comuni, quelli del potenziamento degli organici e della sede. Con l'ortodossia nell'applicare le leggi, fare evidenziare le necessità alla direzione regionale e alla direzione nazionale e cercare di far inserire in un potenziamento dell'organico questi bisogni. In quanto solo con un decreto di apertura da parte del Ministero dell'Interno, valutate le esigenze territoriali, e con un decreto di potenziamento dell'organico del comando provinciale, si può risolvere in maniera compiuta e radicale il problema. Senta, ha accennato anche alle sedi di Lugo e di Faenza. Lì la situazione e come la troviamo? Beh, Lugo e Faenza sono due sedi prestigiose che sono nel cuore del personale che sta lì. Faenza ho trovato del personale sia in attività sia in coescenza eccezionali. Di sicuro queste due sedi hanno bisogno o di interventi radicali di ristrutturazione, oppure la previsione di nuove sedi realizzate con parametri moderni. Per quanto riguarda la sede del comando provinciale, è obiettivo strategico del Ministero dell'Interno, da quanto abbiamo appreso io e il direttore regionale, la costruzione di una nuova sede, anche per il contenimento delle spese. Non ci sposteremo di molto, in quanto la nuova sede prevista è alle spalle di questa attuale, in prossimità proprio di alcuni suoli che sono di proprietà demaniale. Quindi rimarremo nell'asse dei servizi di questa città. Per quanto riguarda i tempi, non siamo noi la stazione al partante e il provveditorato alle opere pubbliche. Sappiamo che i fondi sono stati stanziati e che già c'è in atto un accordo tra il Ministero dell'Interno e il provveditorato per la partenza amministrativa dei lavori. Visto che oggi è una conferenza stampa per presentarsi alla città, le chiedo di ripeterci il suo motto. Detto in qualsiasi comando dove sono stato, non ho l'arroganza di dire io, ma tendo a dire ai miei collaboratori più diretti, noi, solo perché in questa maniera ritengo che possiamo risolvere molti più problemi e meglio.